Napoli, buonasera Presidente! Buonasera, buonasera Presidente Buonasera, buonasera Presidente Sono indignato, perché vedo che non state parlando del mio Napoli che ieri ha vinto in maniera sontuosa Ma l'abbiamo detto prima Ha fatto calcio champagne contro la Lazio Ieri abbiamo fatto la passerella a Roma come se fossimo a Hollywood Abbiamo mostrato la nostra eleganza Il bel gioco Le nostre belle vesti Non come la Juventus Che gioca di merda Ma non si dice Presidente Non si può dire Presidente E non aggiungo altro Perché vengo dal cinema E sono un signore, porca droia Comunque vedo anche che non avete detto nulla dello splendido Golden Mertens L'abbiamo appena detto Presidente, se lei non si collega prima Noi l'abbiamo detto però Lo splendido Golden Mertens Sì, bellissimo Una parabola Sì Incredibile Sì Che ricorda le traiettorie dell'aereo Nel mio film Da me prodotto Top Guns No, non la prodotto lei anzitutto Non credo che lei abbia prodotto Top Guns E che ho vinto l'Oscar Perché ad Hollywood sono delle merda No, non credo E lo meritava Sì Se quel gol Sì Se quel gol avesse fatto Di Bala No, non comincio Un certo Di Bala Sì Sarese a parlare solo di quello No Invece l'ha fatto Mertens E voi giornalisti non dite nulla L'abbiamo detto Io mi metto le varie addosso Se continuate così Perché? Cosa abbiamo fatto? E comunque Visto che non lo dite voi Sì Mi tocca dirlo a me Eh, lo dica lei Cosa vuol dire? Il mio Napoli Sì Il mio Napoli Sì Ha vinto tutte le partite È vero Tutte 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 Sì Non si calmi A parte con lo Shakhtar Lo Shakhtar è vero C'è stato quel problema Ma avrete saputo la notizia Che la gara Per colpa di quella notizia La gara è stata falsata Sì Falsata Si calmi Allude alla notizia Di Serna Capitano dello Shakhtar Trovato positivo All'antidoping Quello sai Il drogato Sì E non aggiungo altro Perché sono un signore Ho capito che è un signore Però Questo è scandaloso Sì È scandaloso Ma non si dice drogato Questo giocatore Sì Dopato Come dice voi Mi sembrava di rivivere Il film Tra i spot Adesso Esageriamo Che lei Da me ha prodotto Anche questo Ma ha prodotto E nonostante questo La UEFA Che ha fatto La UEFA Ha deciso Di non ripetere la partita Non si ripete una partita Per un La UEFA Di un certo Platini Non c'è più Platini In UEFA Non c'è È in galera infatti È in carcere E non gli è bastato Per noi In galera Non gli è bastata La lezione A quelli Che lezione è A quelli Questo è un complotto Contro gli Napoli Non è un complotto Cara mia UEFA Sì Come dite voi In inglese Come vi piace dire Voi in inglese Chi tra l'altro La UEFA You are a shit Non si dice Non si dice Non avete capito Sì Siete delle merda E non aggiungo altro Perché sono un signore Porca troia Buonasera Buonasera a tutti Sempre sobrio Come sempre Presidente Eh molto